La realtà supera la fantasia e la pubblicità a volte racconta qualcosa prima ancora che accada. È successo con l'attaccante uruguayano Luis Suarez. Il suo morso a Chiellini segnerà questi mondiali, ma già prima di mordere il campione metteva in bella mostra la sua dentatura. Pubblicità o no, a Rio de Janeiro, Suarez divide. È sbagliato quello che ha fatto alla punizione meritata. Secondo me Suarez è pazzo, completamente pazzo. Sospesso per quattro mesi, Suarez, ormai quasi una attrazione turistica, non potrà andare allo stadio, nemmeno da tifoso.